Amici e amiche, ben ritrovati sul canale del Commistar Technology, io sono Marco ed oggi andremo a parlare di uno smartwatch molto interessante più che chiamarlo smartwatch, è un telefonino in miniatura in stile Huawei, non so se ve lo ricordate non vi dico la sigla ma ricordatevi di che sto parlando è il DM80 o anche venduto come Zebra Z-Tor Ulta 4G sì, veramente completo, ma seguitemi nel video così vedrete se questo smartwatch o telefonino al polso fa al caso vostro andiamolo a scoprire insieme subito dopo la sigla eccoci qua al solito unboxing veloce leviamo un attimo lo smartwatch questa è la scatola come vedete è una scatola generica una scatola che usano per tutti gli smartwatch che hanno sistema operativo Android generici ok? quella del Zebra Z-Tor è diciamo più mirata è più dettagliata, è più curata ok? eccola qua come vedete qua non c'è nulla, lo leviamo poi abbiamo il manuale delle istruzioni che è in inglese sempre molto semplice spiega le funzioni basilari e vi fa vedere praticamente dove si ricarica dove sono i sensori come si mette la sim al suo interno e quant'altro poi troviamo la basetta di ricarica eccola qua, la metto un attimo qua che è a 4 pin, guardate i 4 pin servono praticamente perché se lo collegate a un pc potete caricare musica e quant'altro e questo è il bellissimo smartwatch veramente costruito bene di cui dopo andremo a vedere tutte le sue caratteristiche eccolo qua molto molto bello il stile Huawei Watch 4 Pro se mi ricordo male spero di sì di non essermi sbagliato vediamo quando andiamo in carica cosa lui fa questa si attacca così come vedete è buona la tenuta e adesso vediamo cosa fa quando lo mettiamo in carica quando lo mettiamo in carica lui vi darà la percentuale di carica come avete visto e comunque in ogni caso lo potete usare anche quando è in carica però io non ve lo consiglio adesso andiamo a vedere un po' di caratteristiche lo smartwatch è 48,3 per qua la parte più lunga 54,5 i bordi questi qua ok? per uno spessore di 15,8 mm lo spessore è così perché a suo interno troviamo una batteria da 950 mAh per garantirgli all'incirca un giorno un giorno e mezzo di durata della batteria poi dopo vi dico tutto nella prova lo schermo è un AMOLED capacitivo da 1,43 4,66 per 4,66 veramente bello è veramente molto luminoso la CPU al suo interno è una SL8541 Arm Cortex Quad Core che fa girare il tutto abbastanza bene continuata da 2 GB di RAM e 16 GB di ROM DDR3 quindi il sistema è tutto abbastanza fluido si può connettere con la Wi-Fi 2.4 e basta qua si può mettere la SIM card e lui ha un Bluetooth 4.2 l'Openergy ed è compatibile con Android 8.1 cioè mi sono sbagliato scusatemi ha al suo interno Android 8.1 una app di gestioni ok dopo faremo un discorso su questa cosa qua in più al suo interno c'è il navigatore GPS la bussola e GPS e GLONASS il vetro dicono che è coni gorilla glass o resistente tutto quanto il body è in metallo e qua dietro la classica plastica o policarbonato fatto veramente bene ok da questo lato abbiamo il Magic Crown funzionante microfono e tastino qua dietro abbiamo come abbiamo detto i sensori biometrici e lo speaker non mi vorrei sbagliare ma è qua su un lato da questa parte qua come vedete hanno fatto una piccola risechina nei praticamente nei cinturini che sono da 22 particolari come vedete qui è risecato e qua no perché qua sotto c'è lo speaker e nient'altro eccolo qua è tutta la sua bellezza come vedete se vi faccio vedere i cinturini sono proprio proprietari cioè poi potete mettere anche dei cinturini classici ma questo vi permette di avere una maggiore aderenza ed estetica quando lo mettete al polso ok mi pare di avervi detto tutto ah la sim è una nano sim e è compatibile con 4G LTE e queste sono le caratteristiche principali che lui ha poi sotto al video vi metto tutte quante le caratteristiche che potete andare a vedere adesso andiamo a vedere un po' come bene adesso non andiamo a vedere tutte le funzioni nel senso che sono tantissime ma vi farò vedere le cose principali di questo smartwatch o mini telefonino che potete chiamare dall'alto verso il basso abbiamo il centro di controllo dove praticamente qua ci fa vedere la wifi che è collegata se cliccare dentro va all'impostazione wifi il bluetooth stesso discorso questo qua praticamente è i dati adesso io lo vado a premere e lo chiudiamo e qua è la batteria per il risparmio della batteria da qua ci saranno tutte le impostazioni andiamo a dire due cose sulle impostazioni dopo ritorniamo di là qui potete impostare la rete internet la wifi è monobanda ok il bluetooth da qua potete impostare anche la condivisione dati del bluetooth dallo smartphone allo smartwatch se non utilizzerete una schedina qua dentro e naturalmente potete anche creare uno stop ok praticamente condividere invece i dati di questo con tutti gli altri dispositivi creando un punto di accesso wifi abbiamo il display qui andiamo a vedere cose interessanti la luminosità con messa a bassa vi dico che al massimo è 1400 lux quindi sotto la luce del sole lo vedrete bene non avete problemi da qua come tutte le cose potete impostare la dimensione dei caratteri questo qua è importante qua avete praticamente l'impostazione di quanto lui rimane acceso quando lo riattivate dai tastini qua adesso io lo metto a 30 minuti stavo a 30 ad un minimo di 15 secondi però vi faccio vedere un'altra cosa se lo troviamo qua avete l'avvio al sveglio al sveglio del polso e da qua potete impostare 3, 5, 10 secondi lo segue il sistema cosa significa questo? significa che quando voi lo attiverete al sveglio del polso lo dure altre secondi questo va a far consumare meno batteria ok? invece quando lo attivate dai pulsantini avete un'altra tempistica che impostate sempre voi questo è molto interessante per questo tipo di smartwatch qui potete poi regolare tutto il tocco della corona da queste due impostazioni l'NFC è solo il tag qua un'altra gesture che voi se mettete il palmo sullo smartwatch lo coprite completamente così poi c'è un gioco sopra lui spengerà lo schermo oppure lo schermo lo spengete premendo qua poi cura degli occhi la risoluzione dello schermo questo è un'altra cosa interessante perché praticamente voi cosa fate da questa posizione qua create praticamente un riguadro così cioè quando si aprirà un'app verrà visualizzata come vedete questo riguadro grigio square 1.0 square 1.1 sarà ancora un po' più piccola ok? questo è importante per far funzionare bene le app che voi caricate ok? faccio vedere un po' di water volo così poi abbiamo l'audio lo potete impostare multimediale il volume delle svegli il volume della suoneria e potete impostare anche i tipi di suoneria questo anche molto importante poi abbiamo i profili audio della notte cioè vari profili audio che potete avere lo spazio di archivazione ne avrete liberi all'incirca 10-12 le app con le notifiche qua sono tutte le app che possono avere le notifiche che potete attivare e disattivare come se fosse uno smartphone la sicurezza qua potete inserire un codice che ogni volta che voi lo riattivate dovete inserire quel codice l'aggiornamento del sistema la geolocalizzazione quindi il gps la gestione background questo pure è importante perché vi permette di creare una lista di app che non verranno chiuse in background ok da accanto di google la gestione del risparmio energetico le opzioni dell'impostazione quindi il ripristino di fabbrica il ripristino del bluetooth il ripristino della wifi qua sull'altra impostazione abbiamo la batteria l'accensione di spengimento quindi potete impostare anche l'accensione di spengimento come volete voi ripeto come un telefonino qui potete condividere tutti i vostri contatti i messaggi sms cioè qui potete avere tutti i vostri contatti ok del vostro account quando lo collegate l'allarme wireless e il rinamento dei battiti l'ho fatto vedere così veloce se andiamo giù e andiamo ancora più giù avete tutte le impostazioni col centro di controllo come vedete questo è questo praticamente è per fare entrare tutta l'app nello schermo si disattiva si disattiva il suono il gps ve lo vado veloce la wifi bluetooth la modalità aereo la modalità risparmio la connessione dati e altro e quant'altro ok avete tutte le impostazioni che volete vediamo un attimo da sinistra verso destra abbiamo il controllo musicale che sarà solamente per questo smartwatch non controllerà quello dello smartphone mentre a quest'altra parte abbiamo il ripiro della giornata già vi dico che i passi di sovrastima la rilazione dei battiti che l'ho trovata molto attendibile quindi i sensori sono buoni anche ricordatevi sempre però che non sono sensori medici o prodotti medici certificati e qua ci fermiamo qua premendo qua andiamo all'updrow speriamo che l'ho pronunciato bene vi faccio vedere i vari tipi ha anche l'attivazione cioè l'apertura delle app come nell'apple watch adesso io vado a questo vi faccio vedere qua il telefono il telefono funziona bene lui ha 85 decibel in audio naturalmente nei posti molto rumorosi potreste avere un po' di difficoltà ricordatevi sempre che però potete tramite il bluetooth mettere delle cuffie ok e praticamente quando vi chiamano lui riceverà cioè vi farà vedere il nome del chiamante se è in rubrica ricordatevi sempre che questo ha le telefonate a sé stanti perché se riceverete una telefonata sul vostro smartphone no la vedrà di qua non la potete prendere dallo smartwatch ok questo è un modello che è così avete praticamente poi dopo la lista delle chiamate e qua tutti quanti i vostri contatti e qua il tasterino che è abbastanza sensibile le impostazioni ne abbiamo viste il browser la calcolatrice il calendario che funziona come quello dello smartphone quindi potete mettere i vostri appuntamenti oppure sincronizzare i vostri appuntamenti con il vostro account che naturalmente sarà presente il vostro account anche sullo smartphone i contatti gli album qui l'album delle foto i messaggi la musica l'abbiamo vista il cronometro maps funziona come maps originale con tutte le limitazioni dello schermo il super espermio generico la pulizia per eventualmente se vedete che inizia ad andare male il sistema almeno non ha mai dato incertamenti premete questo e fate una pulizia in modo da che si rivelocizzerà l'orologio che poi sarebbe sostanzialmente questo qua qui potete scegliere dei fusi orari tramite qua come vedete il video player quindi potete vedere dei video la torcia vi faccio vedere i bordi ok la registrazione dei suoni gli sport qui naturalmente ricordate sempre potete impostare tutto quanto altezza peso e tutto quanto impostate questo e poi andate negli sport avrete anche il gps l'unica cosa che naturalmente sono un po' scarne come app i dati rimarranno sempre solo qua nello smartwatch il mercato delle app questo è molto importante allora qua voi senza collegarvi al play store potete mettere delle app cosa molto importante l'assistente vocale che funziona ok caricatelo da qua perché questo è un android 8.1 quindi caricatelo da qua e non lo fate mai aggiornare in modo tale che utilizzate sempre questo perché quello scaricato dal play store potrebbe funzionare male vi faccio vedere solamente un attimo che tempo fa in questo momento nel Lazio ci sono 17 gradi e cielo parzialmente nuvoloso come avete visto qui c'è Zerando poi c'è Messenger Netflix Amazon Whatsapp Whatsapp poi ho installato anche Telegram funziona abbastanza bene però naturalmente siete limitati dal dal quadrante che io preferisco sempre che sia rettangolare per questi smartwatch e il più ampio possibile naturalmente qui potete regolare tutto quanto anche sempre da lì dove vi ho fatto vedere prima anche i caratteri grandi piccoli fate come vi pare come nel telefonino ok però la limitazione è proprio la grandezza del quadrante nell'esperienza l'uso comunque va bene qui abbiamo il drenaggio se lo bagnate entra qualche acqua negli orifissi la rivelazione dei battiti vi ho detto che va bene e quella la costituzione del sangue un po' meno ma ripeto comunque sempre non sono prodotti medici la guida rapida le impostazioni dello stile quelle che vi ho fatto vedere prima il mercato dei quadranti dopo lo vediamo il conteggio dei passi vi ho detto già che sovrastima qua per andare ad esplorare i file cioè le cartelline che sono al suo interno perché come già vi ho detto potete caricare tutto quello che volete collegandolo al pc oppure mandando un file via bluetooth oppure se riuscite tramite un'app via wifi tra le altre cose vi dico che c'è un'app che c'è un watch droid che vi permette di avere tutte quante le notifiche che avete sullo smartphone di sincronizzarle con lo smartwatch basta scaricare questa app sia qua che nello smartphone e condividerete tutto quanto e quell'app stessa vi permetterà di caricare dei file tramite bluetooth e qui l'assistente vocale qui c'è il price store classico vi dovete registrare quando voi andate qua e lo aprite dovete fare tutta quanta la registrazione funziona bene l'ho provato va tranquillamente bene e tutto quanto a posto per quanto riguarda youtube vi faccio vedere un piccolo video adesso lo mando l'audio come sentite si sente bene abbastanza alto siamo intorno a picchi di 90 decibel quindi lo sentite bene naturalmente le limitazioni sono sempre il discorso del quadrante ok e queste sono tutte le cose che lui ha le notifiche quando arrivano arriveranno qua sopra dal menu a tendina come queste qua come vedete i caratteri non sono tanto grandi sono piccoli poi voi le aprite e lui va adesso al google play o alle notifiche che arrivano ma sono le app che sono qua dentro per il discorso di non finire dello smartphone vi rimando al discorso di watchdroid ok allora cosa ne penso di questo smartphone io penso di avervi detto tutto vediamo solamente un attimo una cosa molto interessante il quadrante è molto bello il pannello è molto bello i colori sono molto belli la luminosità è bella premendo qua andiamo 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 avete questa qua costume ok che premendo qua sotto potete cambiare lo sfondo e andiamo di qua andiamo avanti da qua invece avete tutto quanto lo store dei quadranti e ne avete tantissimi tutti quelli che volete e come volete vi faccio vedere solamente un attimo questo voi lo selezionate naturalmente dovete essere collegati sotto wifi oppure connessione 4G LTE tramite praticamente la schedina lui lo scaricherà in base alla velocità della vostra linea comunque mediamente è questo poi lo applicate ed eccolo qua guardate che bello schermo mi avvicino un po' per farvi vedere il pannello è molto bello ripeto come smartwatch è molto bello la durata della batteria ci fate circa un giorno un giorno e mezzo non mi voglio dilungare molto perché ci sarebbero da dire tante cose ma voi sotto nei commenti poi scrivetemi chiedetemi che io vi rispondo ok a me lo smartwatch è piaciuto è praticamente identico al Zablez TOR ultra 4G naturalmente il packaging non è uguale quello del TOR è più curato ma la sostanza è quella ok se lo volete prendere come smartwatch ricordatevi sempre che lo dovete ricaricare ogni giorno per stare tranquilli che lui non monitorizza il sonno ma potete caricare delle app per fare ciò naturalmente poi con tutte le accortezze del caso nel senso che dovete mettere l'app sempre attiva in background e aumenterà molto il consumo della batteria però a me devo dire che è molto piaciuto perché usandolo ha un buon feeling d'uso ha un buon feeling la rotellina il pannello come vedete è bellissimo fantastico secondo me e la costruzione è molto buona ok quindi a me è veramente piaciuto quindi io qua sotto in descrizione metto il link per l'acquisto io sono uscito appena in offerta a 57 euro ma adesso sta tra gli 80 e i 90 euro quindi pensateci bene perché ci sono altri smartwatch di altre case magari che potrebbero piacervi di più magari non hanno tutte queste funzioni però poi nel contesto di uso quotidiano avete una batteria di più lunga durata e come diciamo feedback di uso buono ok quindi qua sotto in descrizione metto il link dell'acquisto il link del canale telegram degli affezionatissimi del canale del commista tecnologi e degli amici di smartwatch e di revotech vi do un abbraccio e ci vediamo al prossimo video